ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi un video di video acquisti mi è arrivato il famigerato pacco da fanfactory ordinato il 23 ottobre è arrivato il 12 di novembre quindi una ventina di giorni di attesa per questo pacco adesso ve lo faccio vedere all'interno ci sono se non ricordo male i 18 titoli non ricordo male dopo volevo fare un ulteriore terzo ordine da 43 44 titoli che poi dopo insomma troppe carne al fuoco ragazzi troppi soldi e ho deciso di passare avanti magari la prossima volta insomma prenderò quello che è rimasto ma diciamo che quello che mi ero prefissato di portare a casa l'ho portato a casa quindi ragazzi non ci perdiamo in cianci intanto mi sentito un po col fiatone perché perché mi ero preparato tutto quanto insomma mi sono messo il microfono e tutto mi suona il campanello e il corriere di hl che mi ha insomma consegnato un pacco proveniente dalla germania addirittura insomma non ho resistito l'ho aperto leggermente però non vi accorgerete di niente quando ve lo farò vedere insomma edizione veramente spettacolare non vi dico altro ragazzi quindi insomma vi ho spiegato il perché ho questo piccolo fiatone perché ho dovuto fare tutte le scale insomma di corsa perché lui mi stava aspettando firma torna su spiegato il tutto quindi ragazzi non ci perdiamo in ciance e passiamo all'unboxing eccoci qua ragazzi allora tagliamo le fascettine è stato un parto avere questo quest'ordine a casa tagliamo anche di qua ok via eliminiamo le fascette ok un gran casino vabbè e apriamo lo scatolone andiamo a vedere cosa c'è all'interno praticamente dovrebbero essere quasi tutti i titoli se non tutti i titoli che non ho mai visto vediamo se mi sbaglio poi lasci anche che dico una cavolato non mi ricordo al cento per cento cosa c'è dentro allora questi niente fan factory via via vediamo come hanno suddiviso vabbè hanno fatto tutti i pacchettini adesso vi faccio vedere sono tutti i pacchettini da due con il pluriball vabbè loro veramente sono super per queste cose qui sono super andiamo se l'ultimo sì quindi tanta robina ragazzi poi considerate che tutti questi film poi sono da guardare quindi mi ci vorrà anche un po' di tempo allora cominciamo col primo pacchettino ragazzi io ve li faccio vedere però non vado a fare l'unboxing di ogni prodotto se no stiamo qua fino a domani allora z vuole giocare ho cercato di prendere più i titoli diciamo che mi intrigavano un po' di più perché insomma non li conosco ma comunque a 2 euro e 99 3 euro e 99 adesso li mettiamo così perché sennò mi cavano la luce dopo fatemi sapere voi se li avete visti se non li avete visti come sono questo il primo poi nell'altra troviamo vampire o vampire anche questi 2 euro 99 3 euro e 99 l'uno veramente regalati sarebbe stato gioco fare anche un terzo ordine ma si fiver contagio in alto mare tutti in blu ray e dvd non ne ho acquistato e adesso qui c'è l'unico pezzo forte del penso eh non ricordo ma così a occhio mi sembra di sì che questo sia il pezzo forte comunque di questo video si tratta di babadook in questa edizione metà steelbook metà mediabook insomma un misto in questo formato qui ho anche le due edizioni inerenti alle due trilogie di sergio leone quindi la trilogia del dollaro e la trilogia del tempo quindi che sono edizioni stupende allora andiamo intanto a vederci il flare pagata ragazzi appena 9 euro 90 quindi veramente niente pesantissima guardate che artwork ma è bellissima questa edizione è un film poi che non ho visto che sono curiosissimo di andare a visionare ma guardate che roba ma è pazzesca pazzesca all'interno un vero proprio libro eh guardate che spessore che ha questa questa pagina veramente proprio un libro vero e proprio ovviamente tutto in inglese ragazzi adesso non ve lo faccio vedere tutto molto bella questa edizione qua eh veramente bellissima ah qui si apre addirittura e qui ci sono i dischi alloggiati in questa maniera quindi disco 4k e disco blu ray è un'edizione ragazzi veramente bella come diciamo qua dalle nostre parti sburone veramente sburona bella bellissima andiamo avanti benvenuti nell'incubo ricordo che sono tutti titoli ragazzi che non ho visto eh qui cosa abbiamo ah zombie massacre saga quindi dovrebbero essere bubbero bubbero mmm sono due film bubbero e andarla questo voglio andarla da prima perché sono sono curiosissimo sono super curioso non curioso, super curioso questo lo andiamo ad aprire allora intanto non so se è rotta o è ok nessuna speranza sono risorti per riscrivere la storia vediamo quanti dischi sono dovrebbero essere due due film anche questi anche questi me li voglio sparare che a me i film sugli zombie piacciono veramente un casino veramente bella, 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 bella abbiamo fatto uno strappo alla regola uno l'abbiamo aperto poi si capita qualcos'altro qui non è bello chiaro insomma oh no dai 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 non è rotta dai non è rotta ok andiamo avanti quindi via mamma che montagna di mondizia che ho fatto allora che abbiamo The Retic's scare campaign anche questo attento a scherzare con loro anche questo mi prende parecchio mi prende parecchissimo anche questo mi prende parecchissimo quanti ne abbiamo ma qua 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 vabbè qua sono delle edizioni vediamo allora Tales of Halloween 11 registi visionari un solo terrificante incubo e sono curiosissimo dieci storie si intrecciano durante la notte di Halloween in un sobborgo americano dove i shawl folletti alieni e assassini scusate ragazzi ma faccio fatica a leggere appaiono solo per una notte per terrorizzare gli ignari residenti anche questo mi veramente mi piglia un sacco penso che ce li che mi li sparirò tutti volevo dire ce li spareremo perché c'è anche un mio amico che viene di solito a guardarli con me poi Sputnik del quale mi hanno parlato molto molto bene è recuperato a soli mi sembra 2,99 euro se non erro o 3,99 vabbè comunque prefaccio questo so che è bello poi qui abbiamo che abbiamo gli azucca apocalips e anche questo ultimo ultimo il passo del diavolo e anche questo mi prende qui c'è da fare una maratona horror anche se Halloween è già passato ma c'è da fare una maratona horror ragazzi qui è veramente un pozzo di film da guardarmi mamma mia quanti ce n'è io comincerei subito da Babadook e poi andiamo andiamo in giù e ce li spariamo tutti perfetto ragazzi io con questo ho concluso questo super unboxing prima di salutarvi vi faccio rivedere tutte le edizioni tutte molto molto belle ma questa veramente pazzesca bellissima Babadook di Blu-ray così semplici semplici ce ne sono solo due il passo del diavolo mamma mia non vedo l'ora di gustarmeli tutti e Tales of Halloween questi qui vanno sparati maratona Sputnik penso di aver scelto di aver scelto alcuni titoli insomma sapevo già cosa prendere per altri invece sono andato un po' a sentimento speriamo di non essermi sbagliato ma non penso proprio e poi e poi pensate che avevo fatto un carrello da 40 4 45 edizioni mamma mia veramente venivo a spendere una fortuna comunque si trattava quasi di quasi 200 euro però ne valeva la pena ragazzi io vi ricordo sempre fatemi sapere se avete visto qualche film insomma di questi tra questi qua cosa ne pensate mi aspetto i vostri commenti magari qualcosina di di trash ho preso sicuramente ma non mi interessa insomma sto cominciando a apprezzare anche il cinema trash essendomi avvicinato molto al genere horror genere che insomma da diversi anni da più di 10 anni non avevo lasciato un po' in un angolino adesso diciamo che non dico che è il mio genere preferito però 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 ci va molto vicino perfetto ragazzi io ho terminato questo video io spero che il video vi sia piaciuto spero che gli acquisti che ho fatto siano di vostro gradimento se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciatemi like iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti